Allora, dottoressa, noi parliamo di bambini, di difetti di pronuncia, dicevamo la zeppola, la r moscia, ma fino a che età è normale pronunciare male? Diciamo che il bambino, verso i tre anni e mezzo, dovrebbe avere un inventario fonetico completo. È parafisiologico se il bambino a tre anni e mezzo pronuncia male alcuni suoni, diciamo, che sono gli ultimi ad essere acquisiti, come la s, la r, la sh, la i, la r. Certo, quelli un po' più complicati, ma i difetti di pronuncia più diffusi quali sono? Di solito i difetti di pronuncia più diffusi sono o questi, appunto, di questi suoni che sono acquisiti ultimamente, oppure proprio dei difetti che i bambini sostituiscono, dei suoni completamente differenti, come per esempio la t e la k. Se appunto i bambini sostituiscono questi suoni completamente differenti, bisogna intervenire molto presto. Allora, possono esserci difetti di pronuncia di tipo fonetico e fonologico, giusto, fonetico è quando non ci sono proprio questi suoni che noi vogliamo pronunciare, fonologico quando questi suoni li abbiamo ma li sostituiamo con altri, appunto, per esempio, elefante, elecante, ecco, una cosa di questo genere. Ma da che cosa dipendono questi difetti di pronuncia? Possono dipendere, appunto, o per il malfunzionamento, diciamo, per un'immaturità dell'apparato fonarticolatorio, proprio perché magari il bambino ha portato per troppo tempo il ciuccio, oppure è stato alimentato troppo tempo al biberone, quindi il bambino è abituato più a cibi liquidi, quindi magari mette in posizione alla lingua in modo sbagliato. Quindi un'immaturità per quanto riguarda la masticazione. Certo, senta, possono avere delle conseguenze questi difetti, diciamo, di pronuncia che però significa mettere male alla lingua se non vengono trattati? Sì, se non vengono trattati, diciamo, prima che il bambino vada all'elementare, possono poi dare dei problemi anche nella lettura, per esempio. Dare dei problemi poi anche nella lettura e nella scrittura. Eh, certo, poi dopo, diciamo, è un po' un circolo vizioso, no? Si trovano male a scuola e quindi poi ci sono altri tipi di problemi, ma si curano con facilità questi difetti? Se presi precocemente sì, e se lo specialista, quello che fa l'intervento, che proprio fa un'analisi attenta di qual è il problema, appunto, se il problema è una omissione o una sostituzione del suono. Allora, senta, rapidamente alla fine, spesso però i genitori si preoccupano un po', perché quando si parla di andare a trattare problemi di pronuncia, magari la prima visita è col neuropsichiatra infantile. Perché con il neuropsichiatra infantile? Proprio per escludere che i problemi siano di tutt'altro tipo, o problemi a livello neurologico oppure problemi a livello di ritardo di linguaggio. Grazie mille, grazie mille dottoressa.